Come vi avevamo promesso, eccoci qua davanti al traguardo in compagnia di Lorenzo Bani, presidente dell'ente parco che gestisce il parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Innanzitutto grazie per aver accolto anche quest'anno l'invito. Ma è un piacere anche perché ormai l'ippodromo e l'alfea sono parte integrante del parco, quindi non si può prescindere da un rapporto stretto di collaborazione che dovrà essere sempre più evolversi in modo positivo. Oggi siete ospiti all'ippodromo che è ospite all'interno del parco, è un gioco di scatole cinesi o di matriosche. Sì, va bene, l'importante è che siamo tutti una famiglia, anche perché il parco, come dico sempre, siamo noi, non è di qualcuno, è dei cittadini di Pisa, di quelli che vengono a San Rossore, di quelli che vengono all'ippodromo, quindi è bene creare sempre momenti di collaborazione e di stare insieme. Intanto possiamo vedere delle immagini che ci avete fornito relative proprio al parco. Quanto è stato fruito il parco nel corso dell'ultima primavera estate? Ma è stato fruito molto, anche perché noi abbiamo fatto tutta una serie di eventi, che è il Vivi Parco, che sono una serie di concerti sulla spiaggia e di presentazione di libri alla giraffa, che è una zona particolare qui all'interno del parco, e sia con il viale dei legami, questo viale che abbiamo fatto per le persone che sono decedute e quindi le famiglie mettono su questo alberino e lo coltivano, quindi ce ne sono già 350. Quindi diciamo che questo ha aiutato. Poi noi stiamo cominciando a segnare i sentieri perché vogliamo che sia sempre più fruito. Il parco deve essere sempre più aperto, non deve essere un museo da guardare da lontano, deve essere vissuto, perché chi lo vive lo rispetta. E quindi l'obiettivo è rendere sempre più fruibile il parco. Così facendo sono sicuro che ci verrà sempre più persone, verrà sempre più gente, che rispetteranno la natura e nello stesso tempo ameranno l'ambiente. Parco di San Rossore e da qualche anno sono ritornati i dromedari che fanno parte della storia di questo luogo, Lorenzo. Sarebbe una storia lunga, comunque vi posso dire che già dai Lorena, ma in particolare durante il Re, qui c'erano 200 dromedari. Era proprio un allevamento di dromedari perché questi erano animali da fatica. Servivano ai contadini per portare come forza lavoro. Sono rimasti soltanto, poi la Seconda Guerra Mondiale sembra che siano stati mangiati. Chi dice dalle truppe marocchine, io penso più dagli abitanti di questa zona e dai pisani perché c'era tanta fame. C'è qualche, un po' contrastata questa leggenda, no? Purtroppo il fatto è che non ce n'era più, quindi noi abbiamo tre dromedari e io sono due femmine e un castrato, perché io sto cercando in qualche circo, in leasing un dromedario per poter riprodurre i dromedarini. Quindi cercasi dromedario maschio. Cercasi dromedario maschio per poter riprodurre i dromedarini che sono eccezionali, anche per i bimbi, perché poi vivono benissimo in questo ambiente, perché è un ambiente favorevole alla loro presenza. Gradiscono molto anche l'erba della pista di San Rossore. Però loro hanno, in tempo erano utilizzati come animali da fatica, trasportavano, se non mi ricordo male, anche la legna, in legname, in città. Adesso però hanno un altro compito all'interno del parco. Sì, hanno un compito importante, come noi facciamo molte raccolte con i volontari, perché purtroppo l'Arno quando viene in pieno porta di tutto, dalle lavatrici, alle pneumatici, alla plastica purtroppo. Quando facciamo queste raccolte, loro che possono portare fino a due quintali e mezzo, quindi un peso importante, aiutano questi volontari a poter portare i sacchi dei rifiuti nei luoghi di raccolta, dopo poi le geofor le porta via. Quindi svolgono una funzione importante anche oggi. Lo stiamo vedendo proprio nel filmato sul circuito televisivo interno e tra l'altro rispettando il delicato habitat delle dune. Sì, anche perché i cammelli, noi si chiamano cammelli a Pisa, anche se sono dromedari, i dromedari hanno la capacità che non hanno gli zoccoli. Nel momento in cui mi mettono il piede a terra, le dita dei piedi diventano piatte e quindi non creano nessun danno alle dune. Possiamo, Fabio, per cortesia, se fai alzare il tuo dromedario, così mostriamo questo particolare del piede che ci ha raccontato il Presidente e facciamo vedere appunto come il piede sembra quasi palmato. Sì, sì, è palmato, cioè proprio non crea nessun danno, non crea nessuna buca, nessuna buchetta, niente di niente, quindi ci aiuta anche a tutelare le dune. Ma di carattere, come sono questi animali che al parco giochi si sono fatti fare di tutto dai bambini? Perché dipende molto anche dai collaboratori che ho, dai miei dipendenti, che li curano con grande attenzione. Siccome, secondo me, gli animali sono meglio delle persone, cioè non potranno odio, riancorre, lo sia, ma se li tratti bene, ti trattano bene anche loro. Quindi questo è il grande pregio dell'animale in quanto tale. Poi ricorda che noi abbiamo anche sette lupi, quindi non ci facciamo mancare niente in questo parco. Bene, Lorenzo, qualche altra novità che riguarda il parco, a breve oppure per il prossimo anno, qualche anticipazione? Ma l'anticipazione è che noi stiamo dietro al nuovo piano regolatore, che era del 1989, dove cercheremo di coniugare finalmente ambiente sviluppo, perché queste due realtà devono stare insieme, cioè il parco si deve sviluppare, deve favorire il turismo, deve favorire l'accoglienza, e quindi se si riesce a mettere insieme queste due cose, ambiente sviluppo, per questo parco ci sarà sicuramente una vita positiva e un grande futuro. Grazie a Lorenzo Bani, presidente del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Grazie a voi e a tutti i presenti. E grazie anche a Fabio e a Mario che ci hanno portato i dromedari di San Rossore o i cammelli di San Rossore, come vengono chiamati a Pisa. Grazie a tutti iersti.